Con oltre 180.000 casi le Marche sono tra le regioni più colpite dall'influenza, in particolare per quanto riguarda i più giovani. Dopo aver elaborato i dati attraverso i medici Sentinella, ovvero quelli che aderiscono volontariamente e segnalano i casi riscontrati tra i loro assistiti, il dottor Massimo Agostini, direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha illustrato i numeri registrati fino ad ora. Dai dati che abbiamo, è iniziato proprio con le fasce da 0 a 4 anni per poi arrivare a quelle fino a 14-15 anni e poi nei giovani anche più adulti, fino a 24 anni. E man mano si è estesa poi nei soggetti più anziani. Questo perché? Perché i soggetti giovani non erano vaccinati, non erano protetti, mentre nei soggetti anziani c'era una maggiore possibilità di protezione legata alla vaccinazione o al fatto che avevano già preso l'influenza precedentemente. In modo particolare quello che è circolato è stato il virus H1N1 e a causa del calo notevole di vaccinazioni ha creato anche casi molto gravi con numerosi ricoveri in ospedale. Nell'area della provincia di Pesero cinque persone che sono andate a finire in rianimazione, abbiamo avuto tre decessi per influenza H1N1, anche in soggetti adulti, addirittura in una donna in gravidanza che fortunatamente alla fine ha superato la situazione critica e altri a Milano addirittura ricoverati da San Raffaele proprio per la criticità dello stato delle complicanze legate all'influenza che hanno avuto. Invece quante sono state le persone all'incirca che hanno fatto questa vaccinazione? Due anni fa avevamo una realtà abbastanza buona con coperture che arrivavano oltre il 60% anche se avvicinavano al 70%. Di fatto a seguito di quella che è stata la campagna, soprattutto di movimenti anche di tipo antivacinale, la questione del FUAD che invece in realtà dimostra un'attenzione della scienza nei confronti dei vaccini, ha creato paure nei confronti della vaccinazione e di conseguenza è stato un calo notevole. Siamo intorno a un 50% di soggetti ultra 65 anni vaccinati, quando dovremmo essere almeno un 75%.